Pomeriggio si sorseggia un caffè. Sai Mauro, io sono pensieroso preoccupato per tutto questo ambardan che accade nel mondo, Berlino, Istanbul, preoccupato, preoccupato. E poi, proprio in questi giorni, mi stava venendo in mezzo a dare un fuoco, il grande guitto. Perché? Perché ricordo che nella morte accidentale di una nare, Lui descrive questa scena grottesca, il Pino Pinelli, inquisito, per Piazza Fontana, in questa stanzetta, va alla finestra, in quest'ora, va alla finestra, grida, viva l'anarchia, perde l'equilibrio e cade. Ma hanno cercato di ottenere la mappa, ha perso l'equilibrio e è caduto. Materiale grottesco. In questi giorni qualcosa di esplosivo, ad esempio Istanbul, tutto terrorista. Ma aspetta un attimo, ma... Eh. Ma allora perché i comici non fanno più ridere? Eh, non fanno più ridere perché la realtà è talmente forte, grottesco, Hillary, che è il comico, non riesce più, se non è un grande guitto, capisci? Sono morti i comici. È morta la comica. È morta la comica. È morta la comica. Allora, praticamente... Sì, è morta la comica. Comics, fumetto. Eh, allora no. Comics, fumetto, Babbo Natale, Babbo Natale. Come si chiama quell'altra cosa lì che fanno quell'altra roba lì che fanno i comici, che cos'è? Eh? Cosa? Non so, la comedia. No, non è la comedia. La comedia, quella dantesca. No, quando si critica qualcuno prendendolo in giro. Coming out. No, c'è un altro nome. La satira. La satira. La satira. La satira. Che è un satiro. Che è un famosissimo satiro. Eh, anche il viso del satiro, se vuoi, no? Praticamente è entrato in questo night, grande night, famoso, a Istanbul. Eh, non c'hai vista. Le prime notizie le immagini a media, media potere, potere media. Babbo Natale islamico. Ha detto che era vestito da Babbo Natale. E lui è entrato vestito da Babbo Natale. E gli dice, guardi, ci faceva Babbo Natale. Poi, trac, Kalashnikov. E poi la gente ancora, quella di moda. Ma guarda che sicurezza. Anche Babbo Natale col Kalashnikov. Porca puttana. Questo comincia a sparare, spara, 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 spara. Una tragedia. Sette ore dopo, dieci, dodici ore dopo. No, non era travestito da Babbo Natale. Erdogan, capo, capo. Basta, Babbo Natale scompare. Giro il mezzo televisivo. Vedo, vedo, una scena. Una scena. Un Pokémon. In un palazzo distrutto di Aleppo. Con un militante delle truppe d'assalto. Che insegue il Pokémon. Guarda, tu, menchia ragazzi. Però, però. Tutti questi bambini morti c'è il Pokémon. Poi, tre ore dopo, rigiro la televisione e ha individuato il jaylist. La Madonna, da Babbo Natale hanno già beccato. Un ragazzo, tre belle foto, un ragazzo. Questa mattina accendo, dice, no, dice, quel ragazzo lì si è visto. Ha chiamato, ha chiamato, ha detto, guardate, non sono io. 17.000 poliziotti in giro a cercare Babbo Natale. Questo qua che non c'entrava niente. Pokémon. E io sono basito. Ieri sera poi ho incontrato me a me. Sì, no, però, aspetta, certo. Come si fa a essere basiti dalla... Questi sono turchi. Ah, beh, sono cose turchi, però, ma i turchi, lo diciamo da secoli noi. No, 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 no. Cosa vuol dire fare cose da turchi? C'è un via più, c'è qualcosa di globale. Di globale. No, ma c'è qualcosa che quando lo fanno i turchi... non è solo turco, è globale, è globale. Comunque... Ma sai che invece... Globale. Prima quando me l'hai raccontata, dopo ti faccio andare avanti, speriamo che non ti dimentichi di cosa stai dicendo. Eh già, io mi dimentico. Io non dimentico. Allora, ti stavo dicendo che... Cioè, questi turchi sono comunque giovani sulla... I giovani turchi, quella della democrazia cristiana una volta, dicendo che c'erano i giovani. Sì, sì, sì. Ma probabilmente sono gli stessi giovani turchi invecchiati anzitempo, quelli che fuori cucina, se erano già sotto i grandi, sotto i cavoli. Ma comunque, va bene. Questi turchi, che sono relativamente giovani sul palcoscenico del terrorismo internazionale, fanno ovviamente un sacco di errori molto carini, per cui lì viene fuori, poi quella frattura, per cui la... è proprio dalle sue imperfezioni che vedi lo spettacolo come viene architettato e messo in scena. Sì, comunque, va bene. Che poi fallisce miseramente. Perché è un approfondimento quasi sociologico. Vai avanti se ti ricordi ancora dove eri arrivato. Sì, che mi dico, io ho contratto ieri sera il vicentino, il vicentino della Dramagosta, l'ottano parente del Suan Padang del Dario Fo, perché erano per via di cugini, dei secondi cugini, insomma, comunque parente, ma io mi dico, ma io mi dico, dove adesso ci sono i saldi, eh? Eh, ma io ci sono i saldi, certo, di una pifaniera ci sono i saldi. Eh, ma io sono preoccupato, ma ce li ha i soldi, questi saldi? No, ma io sono preoccupato. Capito che non si è preoccupato, ma voglio dire, qual è il problema? No, per via della Befana, la Befana del Vigile, del Fuoco, la Befana di Martinillo, la Befana di Ghir, no, no, è che dice, dai, qui saldi lì, si riempiono lì, la zona lì, il Duomo, negozi lì, questi grandi negozi lì vicini, ci sono i saldi, eh, eh, e magari passa la Befana, che dici, appunto, mi dice il Vincenzino, eh, della Bacombo, passa la Befana, tu pensi che se passa la Befana, una truccata da Befana, della Jihad, cosa può succedere lì, nonostante tutti i controlli, che Babbo Natale l'ha fatto in Istanbul, chi lo fa la Befana, ti capisci? Eh, il Vincenzino Magolfo, ha torto il Vincenzino Magolfo, ha torto, secondo te, chiediamolo, chiediamolo al Dario Fopo, eh, purtroppo, magari, non può rispondere, non so, è davvero. Dario Fopo, cosa vuoi che ti dica? Eh, dice che è tutta una roba, che è, talmente allucinante, da essere ancora più che grottesca, ecco, questo potrebbe dire, credo io, se è finito l'amore. Sì, ma la morale di tutto ciò? Eh, la morale è che il presidente turco, che ha gestito un colpo di stato venti giorni fa, un mese fa, avrestano altri due mila docenti, ma di versi. Ha restato altri, non so, io, non so, però, che lì, né il Babbo Natale, né che l'altro lì, che gli ha messo fuori tre foto, non c'entrano niente, non c'entrano niente, siamo a caccia del Pokémon, dico io, vedrai. Edogan è un grande, comunque, perché è da due anni che si esercita a dire ostiate come fanno i suoi colleghi occidentali e pian pianino ha guadagnato reputazione presso Putin, capisci? No, secondo me ha migliorato proprio le performance. Ha migliorato le performance? Sì, 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 perché l'auguriamo anche a Trump, allora. perché il colpo di Stato in Turchia è stato un capolavoro, no? Sì, è vero. 200 militari sfigatissimi, in compenso 2.200 universitari insegnati allontanati dalla scuola. Non allarghiamoci troppo, basta quello che... Si è colpito tutto il colpibile. Basta quello che abbiamo visto in stessi. Ma questo attentatore qui, ma tu vai a capire chi è, e con quali telecomandi? È tutto un complesso di cose che io sono turbato, no? Turbato. Sei turbato? Turbato. Sei turbato, ma perché questa cosa che Babbo Natale possa essere islamico ti è... no, ma non per quello. Ti ha dato un disturbo celtico? Non per quello, perché è poi Babbo Natale, Babbo Natale è Kalashnikov, che è l'alter, con le foto, e lui è l'attentatore, e poi è detto, no, no, non c'entra niente. Per forza, gli ha tre famosi, guarda che non sono mica io, che cazzo mi è messo. Poi è arrivato ieri sera a Vincenzino, lì della Ramagolfa, a parlarmi delle Beffane, e travestite una jadista, non si dice, dove fa, no, va lì, e ciao, succede un po' altro che mettere giunto le barriere, lì, l'anticano va bene, l'uomo è, poi sono disegnate bene, pittate dai writer, se finì la burra.